Niente nazionale under 20 per Federico Accornero che ha risposto alla convocazione del CT Bollini ma è rientrato subito in sede per un problema fisico. Colpo al fianco accusato lunedì scorso nella sfida con il Rimini. L'attaccante è uno dei tre nazionali, gli altri sono Stavar e Tuniov per i quali il Pescara aveva chiesto e ottenuto il rinvio della gara esterna di Pontedera. Inizialmente il programma domenica prossima alle ore 14, match che sarà recuperato come da disposizione della Lega martedì 5 dicembre alle ore 18.30. Dunque dieci giorni per preparare al meglio la sfida con il Cesena, ospite dei Biancazzurri sabato 25 novembre alle 20.45. La crisi certificata dai numeri, cinque punti nelle ultime sette partite, involuzione di gioco, soprattutto tanti cambi di formazione operati da Zeman che non ha ancora individuato, specie al centrocampo, un assetto tipo. Diminuita in maniera significativa la produzione di palle gol. Nelle prime sei giornate i Biancazzurri sono andati a segno 14 volte, soltanto otto nelle ultime sette. La media si è abbassata notevolmente. Il Pescara sarà atteso da un autentico tour de force. In totale saranno sette partite in 28 giorni, dal 25 novembre al 23 dicembre. Addirittura potrebbero essere otto se i Biancazzurri dovessero qualificarsi ai quarti di Coppa Italia. Tre giorni dopo il match con il Cesena, martedì 28 novembre alle 18, il Pescara affronterà l'Adriatico in gara secca il Latina. In caso di qualificazione ai quarti sfiderebbe sempre in gara secca la vincente della partita Catania-Cortone tra martedì 12 e giovedì 14 dicembre. Insomma, in questo caso, sino alla sosta di Natale e di fine anno, i Biancazzurri giocherebbero ogni 3-4 giorni.